Siamo Ceria, Amaducci, Menin e Sedele, secondo errore di Amaducci Lorenzo in giro posizione ed è lui, è Amaducci, seconda posizione per Menin, Marco, Amaducci e Menin, Ceria terza posizione Amaducci, Menin, Ceria, seconda posizione per Menin e Sedele, secondo errore di Amaducci Marco, Amaducci, numero 91, Marco, Amaducci, numero 91, Marco, Amaducci, numero 91, Marco, Amaducci Marco, Amaducci, numero 91, Marco, Amaducci, numero 91, Marco, Amaducci, Canin, Ceria, Manin, Ceria, il mercante è seguito al numero 1, Ventura, terza posizione per l'1, 91, Resboni, 20, tre raggi di punta e intanto vediamo il mercante che si finisce ad affrontare l'ultimo ostacolo di questa pista e si libera il numero 1 e sono partiti dopo l'ortere, vediamo un momentino di Amadrucci, Amadrucci, Lorenzo, Salvatore Maguara trova una seconda, una caduta al 2, 8 posizione, o 4 posizione, Matteo intanto abbiamo con il numero 5, il numero 9, Matteo 18 non si è difficile a decifrarla bene, quindi non posso dimmiare il 4 posizione di distanza sembra il numero 19, sgrova il numero 7, Puffante Andrea il numero 17, Panicucci, Luca il numero 17, Panicucci, Luca numero 3, Panicucci, Luca il numero 35, Gazzitano, Vito il numero 15, Puffante Andrea il numero 17, quarta, 39, 44 e 4 ed è tardi ore tardi ore sul penultimo ostacolo seconda posizione per Chirinieri terza posizione per Canera quattro posizioni per il numero 7, 39 e sono partiti sempre per la squalificazione della categoria del 1977 l'ultima batteria del 1977 con Mercanti, Ripponi, Ventura Scalla, Vandablan e Valentinotti bello questo stream sono riuscito ad aggiungere il numero sul portanumero di questo rider ed è il numero 1, Ventura Ventura sul numero 8, Mercanti e siamo alla C1 con la Corsa numero 25 compresi Iemi, Venini Cap Corretta! Corretta! Ripponi 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 Buon solo un calzatore, numero uno al valusco Matteo Il Cardioli, il Cardioli, il Cardioli in prima posizione, il Cardioli, il Cardioli, il Cardioli in seconda posizione per il numero 3, il Chirniani terza per camera, quarta, vediamoci tra il numero 44, il scritto Capitale e CV. Il Milano in seconda posizione questa con il Cardioli che ormai ha raggiunto, a piede dimania, il suo rivale che è il numero 6, quindi il numero 17, il numero 44, il 4 e di fine il 19, l'ultima posizione. Per me un secondo, sono partiti, Ventura, Ventura mi serve il tempo, ed è Ventura, con il numero 1, Ventura Federico, che conduce, Ventura per l'Avola Terme, prima posizione, seconda posizione per il numero 8, Ventura, per il numero 91, anzi 11 in questi istanti, 11, Sunderland, su Ralfone, danno lasciare fuori un bel duello, ed è la retronica dell'Avola Terme, questo è il primo, compresi, Vieni, 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 Cappelli, Fabri, Cilnardo e Tafforini. La prima versione è finita commentata con una risposta elettrica, vediamo, c'è l'unore del Cappelli, Cappelli che conduce, che è il numero 100, e poi proviamo con il numero 1, Vieni, devo scusa, forse era presi, era presi, ed è nuovamente presi, presi sul numero 1, presi 1 e 5, Vieni, 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 Cappelli, Fabri, Cilnardo, Gaspolini, i colori dell'Avola Terme per la prima, seconda e terza posizione su nero, viene su alla piazza, vediamo ora, con il numero 111, numero 113, numero 5, numero 2, questi 4 rider, i rider di punta, 111, sempre i 5, i 113, e abbiamo ed è arrivato l'ok ed è partito nuovamente il micrometro il cronometro che è scusa e abbiamo Cappelli Cappelli si produce Cappelli sul filipro scusa seconda posizione per i vado 7.11 1 per tutti Cappelli che conduce Cappelli sul doppio tenuto il pano pedale e la rinaldo è rivolta Rinaldo e Rinaldo siamo magari Cappelli Cappelli che conduce su Cappelli e su Rinaldo Cappelli su Cappelli e Rinaldo presi con 111 su Cappelli e Rinaldo e c'è Rinaldo di Monta con numero 5 ed ecco 111 facciamogli un applauso che si apretista non senta questo applauso come un futuro veloci grazie ed ecco i nostri piccolini facciamogli un ultimo alle volatine piccolissime una spinta ed ecco il suo tricolo guardate è scupendoci un piccolino velocissimo forza 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 e e mettiamogli lo fanno è scupendo è una prima è una prima forza eccola e ce l'abbiamo fatta forza dai e sono partiti questi 5 Rinaldo schierati con Gaccio Mani Castaglione Coca Giorgio Fran e Schiavone vediamo vediamo che sono questi ragazzi sotto la categoria 282 vediamo che con numero 9 questo è un spazio di 100 decidito dalla presentazione di Gata Materne con numero 5 ed è Piovesa un pio che attacca l'interno non riesce a citare il numero la Castaglione in parabolica con il numero 9 Piovesa in seconda Castaglione Castaglione l'interno di l'interno sull'ultima staglione numero 22 della I Marco numero 32 Rospinione numero 8 134 Parinaccio Piovesa 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 e andiamo con il numero 4 Castaglione che sta conducendo sul numero 1 Piovesa 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 Corale Lotto per la terza e quarta posizione e quarta posizione e quinta chiediamo con il numero 8 Giuliani quarta posizione per il 28 Carabotolo cesc attenzione per favore pass ml numero 10 numero 20 sedia Matteo pass client dobbiamo ёр numero 97 pallorats con numero 2 psic scurri deshalb serbato in parabolica super 악 1 yes much Sì, cinti su cruzamento, ed esisti, cruzamento, e ci stanno anche la categoria, sempre l'anno, il 1908 giugno con Raponi, Raggitano, Bizzari, Azzorri, Pagolato e Pagolato. Vediamo se con il numero 3, che ci stanno a Bizzari, che conduce su Pagolato, in seconda posizione, e ritorniamo il numero 9, che li stia a tutti in una rimota stupenda, ed è fuori zero, che in seconda posizione ha infilato addirittura il Raido, quasi sopra l'uomo, che vediamo se mantiene, e abbiamo... E ritorniamo il numero 179, con Seria, Capra, Amaduzzi, Orla, Viola e Copitelli, vediamo il gruppo molto contatto, e abbiamo il numero 29, Capra, Amaduzzi, con il numero 5, Amaduzzi, che ci fate, Amaduzzi, che ci infila, Amaduzzi, Orla, Viola e Copitelli, con il numero 29, Capra, Amaduzzi, che abbiamo... Gospita, Amaduzzi, che ci avete nel Prato, Capra, Amaduzzi, e Anaduzzi, qual è la scuola, di riferimento a Pagolato, e abbiamo... Ardolio, riferimento a Pagolato, e abbiamo... Ardolio! 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 Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. 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 a tutti.